Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo biografico di Carla Lonzi, una figura centrale nel femminismo italiano della differenza e del femminismo filosofico. La trama del libro Carla Lonzi, una filosofia della trasformazione, della scrittrice Anna Rosa Buttarelli, pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli, è la seguente. Recentemente riscoperti dopo anni di oblio, gli scritti di Carla Lonzi sono tornati a essere letti e discussi dalle nuove generazioni, che potranno qui trovare il suo primo completo profilo biografico e intellettuale. Da quel momento, il momento in cui l'ho letta per la prima volta, ho iniziato a essere una donna. Ho iniziato ad amare questo nome che non sentivo pronunciare nelle aule dove si studiava storia della filosofia. Da allora, non ho mai smesso di essere grata a Carla Lonzi, non ho mai smesso di imparare da lei, dalla sua vita, dai suoi scritti. Così Anna Rosa Buttarelli presenta l'effetto dirompente che la lettura degli scritti di Carla Lonzi ha prodotto su di lei, allora giovane filosofa in formazione. E introduce oggi a noi la figura più singolare all'origine del femminismo italiano della differenza e del femminismo filosofico. Carla Lonzi ha mostrato la forza femminile di una donna che sa andare via da dove non si può stare, da dove non è dignitoso stare, da dove non è pensabile stare per una donna. Infatti, è andata via dal mondo della cultura maschile, via dalla coppia uomo-donna in cui spesso, anche oggi, c'è abuso e violenza, via dall'università e dalla ribalta della critica d'arte. La sua vitalità è inesaurita come lo è quella delle donne di genio che sono riuscite nell'impresa più difficile che esista. Cambiare la storia umana e la cultura attraverso azioni e pensieri imprevisti destinati a diventare inaggirabili e imprescindibili. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.